Ci troviamo all'interno della Travel One Village, in compagnia di Francesco Paradisi, di Senior State Sales Manager Italia, con il quale cercheremo di andare alla scoperta di alcune importanti novità. Buongiorno. Si sa, i Norwegian non hanno confini e noi di Troceristi.it siamo molto curiosi. Ci può anticipare qualche novità sulle nuove stelle della flotta freestyle, la Norwegian Escape e la Norwegian Split? Assolutamente sì, è vero che non abbiamo confini, nel senso che in Norwegian siamo una grande famiglia, questa è la definizione di Norwegian ed è quello che ci piace un po' sia all'interno dell'azienda come collaborazione, come collaboratori, sia come passeggeri, quindi proprio il fatto di creare una grande famiglia. Le novità sono in effetti la Norwegian Escape, sarà parata ad ottobre 2015 con una grande presentazione a livello europeo. la nave sarà presentata ad Hamburgo con, speriamo, grandissima partecipazione delle agenzie italiane che già da qui, da questa sete, invitiamo a partecipare, poi ci sarà durante l'anno tutta una serie di iniziative legate proprio a questo evento. La Escape è una nave molto particolare, la stiamo costruendo, pensandola per un passeggero che vuole vivere l'esperienza di Miami anche a bordo di una nave da crociera, quindi l'idea è quella di portarsi dietro la città di Miami, quindi con tutto il suo calore, tutti i divertimenti, insomma tutto quell'aspetto che questa città che poi è un po' la porta dei Caraibi si può portare, si porta dietro, quindi questo è il concetto. La Bliss invece no, la Bliss la lasciamo ancora un po' celata perché sarà chiaramente la novità successiva e per l'anno prossimo vi potremo rivelare un po' di cose in più su questa unità. Torneremo su questo momento, c'è una rimonta possibilità che una di queste navi o una della classe Breakaway venga in Europa? Al momento no, al momento diciamo che la scelta di posizionare le navi nuove rimane sugli di navi caraibici, quindi Miami o New York, questi sono i destini delle nuove unità, non è detto che poi in futuro, magari non proprio prossimo ma un po' più in là, si decida di tenere una nave di quella classe in Europa. Consideriamo che l'anno prossimo, l'inverno 2015, vedrà la Epic tutto l'anno in Europa, che è comunque una nave che è stata la prima della nuova concezione freestyle. Nel periodo in cui le principali brand americane hanno annunciato la loro dimensione dell'impegno in Europa, ci puoi spiegare come mai la MCL va in contrattendenza, confermando invece il posizionamento di alcune navi in quest'area geografica? E forse un'attenta analisi del mercato, soprattutto italiano, gli spinge in questa direzione? Allora, innanzitutto l'Europa per Norwegian è molto molto importante, abbiamo due uffici in Europa, uno a Londra e uno a Francoforte, che sono le nostre due centrali operative europee, quindi di fatto il legame tra Miami e l'Europa è molto molto forte, dico Miami in quanto sede della compagnia. Dall'altra parte il mercato europeo per noi è estremamente importante, molto molto importante il mercato tedesco, il mercato spagnolo, il mercato italiano che oggi è il terzo mercato europeo per la nostra compagnia e questa è la scelta di una compagnia americana di voler rimanere in Europa tutto l'anno. Dall'altra parte ci fa piacere di essere l'unica compagnia americana a rimanere in Europa tutto l'anno. E' chiaro che la scelta di mercato ci ha fatto capire che il nostro prodotto così particolare con tutte queste libertà a bordo piace al passeggerio europeo, quindi perché non fare le croce neanche d'inverno con le nostre nanti. Siete stati tra i primi a dare anche spazio ad un target ancora molto ignotato dal mondo di turismo generale. Mi riferisco a quello dei solo travelers, i quali offrite gli studios con tariffe adeguate senza supplementi singola. Pensiamo sia una strategia di mercato molto vigente. Pensate di poter spendere gli stessi vantaggi anche a bordo di navi che non dispongono di questa tipologia di cabina? Questa è una bella domanda. Innanzitutto lo studio è proprio una tipologia di cabina che ha riscosso un enorme successo. Per la sua tipicità, per il fatto di essere comunque un'area dedicata, una zona dedicata non solo a livello di cabina ma anche a livello di attività di bordo dedicata ai viaggiatori singoli. L'estensione ad altre unità già c'è, di fatto. Abbiamo iniziato a cambiare alcune navi della nostra flotta introducendo gli studi. Faccio riferimento per esempio alla Pride of America che è una nave alle Hawaii che non aveva gli studi e oggi li ha, ma stiamo anche facendo tante offerte su alcune destinazioni, sulle cabine tradizionali senza il supplemento singola. Quindi un'attenzione a quel segmento c'è perché oggi è un segmento importante di viaggio. Sappiamo che volete riportare gli italiani ai Caraibi, farli appassionare alle crociere transatlantiche, ma per stabilizzare il potenziale cliente più vestito. Cosa ci può dire a riguardo l'assistenza in lingua italiana fuori dal Mediterraneo? Per quanto riguarda le nostre crociere lungoraggio, con basamento New York, Miami, quindi area caraibica, abbiamo due navi al momento con totale assistenza in italiano, quindi i nostri passeggeri sono assolutamente benvenuti sulla Epic, sulla Gateway, che è al momento la nostra ultima nave parata, la nave più grande in partenza da Miami. Assistenza italiana vuol dire avere menu degli programmi in italiano, vuol dire avere personale che ti sorride, magari non in italiano, ma che parla italiano e di conseguenza le nostre navi sono aperte tranquillamente per il passeggero italiano anche sul lungoraggio. E poi il nostro modo di fare crociera credo che metta a proprio agio anche il passeggero più restito. Certo. E questa direbbe ad italiano, anche single, per convincerlo a provare la vostra compagnia? Ma innanzitutto di iniziare a pensare alla vacanza in crociera come una vacanza, quindi scelgo la crociera per andare in vacanza. Vacanza vuol dire relax e credo che oggi le navi Norwegian Cruise Line siano, diciamo, tra le uniche del mercato crociaristico a poter veramente garantire relax di bordo al 100%. Pensa che nel rapporto con le agenzie si riuscirà nell'immediato futuro ad ottenere dei pacchetti con volo in pulso per tutte le destinazioni? Allora, questo è un progetto a cui stiamo lavorando, siamo già partiti su alcuni mercati europei, l'Italia è in studio da questo punto di vista, non è escluso che nei prossimi anni, non nell'immediato, però si possano iniziare a proporre dei pacchetti lungoraggio o medioraggio con il volo, però al momento diciamo che è ancora in una fase di studio. Un'ultima domanda e ci lasci sognare, la prego. Oh, speriamo. Ci svegli qualche novità sulla programmazione 2015, 2016 e anche no, anche 2017? Allora, nell'immediato e poi che farà parte di tutta la programmazione 2015 e 2016, ci sono due novità importanti che riguardano l'area di nuovo transatlantica, quindi la parte comunque di Caraibi o di Sud America. Prima fra tutti è proprio il Sud America, con delle crociere bellissime che abbiamo iniziato a fare, che anzi che inizieremo a fare adesso a novembre 2015, tra Buenos Aires e Valparaiso, che sono incredibili perché si fa tutta l'Argentina, il Cile, quindi veramente bellissimo, è un viaggio proprio molto 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 bello. Una nave Caraibi che originerà da San Juan, quindi una nuova meta e una destinazione nuova a livello caraibico e poi l'introduzione nei nostri itinerari della nostra nuova isola privata, quindi Harvest Cay di fronte al Belize, queste sono un po' le novità di prodotto. allo studio, nuovi itinerari, nuove destinazioni e ma chi sa, magari ci saranno poi delle grandi sorprese proprio a partire dal 2016 con degli itinerari nuovi. Speriamo tanto, magari anche qualche puntatina in Asia. Perché no, perché no, diciamo che è possibile. È possibile. Ringraziamo la Norwegian Cruise Line e Francesco Paradisi per l'invito e per il prezioso tempo che ci ha dedicato e per averci dato l'opportunità di conoscere meglio il prodotto firmato NCF. Dai padiglioni di Fiera Milano per il momento è davvero tutto. Arrivederci al prossimo appuntamento. Ciao!